Musica Amici di Scratch, oggi per Coffee Ride Siamo in compagnia di Marco Marcato, professionista della UAE Emirates Innanzitutto Marco grazie per aver accettato il nostro invito in questa pedalata, in questa sosta al bar Sì, grazie a voi e buongiorno a tutti Allora Marco, sono passati pochissimi giorni dal Giro d'Italia Volevo da te un'esperienza a caldo, visto che stiamo anche fuori e fa anche caldino Sul Giro di quest'anno, è stato un Giro molto chiacchierato all'inizio Si diceva che i percorsi erano semplici, che non ci sarebbe stata lotta E invece a mio avviso è stato uno dei giri più belli degli ultimi anni Sì, sicuramente è stato uno dei giri più belli Per quanto mi riguarda anche il più duro Il mio terzo Giro che ho fatto Sicuramente sulla carta magari sembrava un Giro abbastanza semplice, lineare Però alla fine si è rivelato molto molto duro e specialmente le ultime due tappe dove abbiamo visto che Insomma, anche gli uomini di classifica qualcuno ha avuto dei grossi problemi, hanno preso tanti minuti Si è rivelato veramente un giro tosto Sicuramente è stato anche dal fatto che comunque è stato sempre corso a tutta Perché non c'è mai stata una tappa trasferimento Sia per le salite, sia magari anche, faccio un esempio, la tappa di Imola Che c'è stato il temporale nel finale E lì c'è il nervosismo per stare davanti, eccetera Ha fatto sì che la corsa diventasse veramente dura E niente, sicuramente ci vorrà un bel tempo Un bel po' di tempo per recuperare questa fatica di tre settimane Tu uomo squadra e non solo, posso dire anche spalla emotiva e fisica di Fabio Aru Fabio ha speso bellissime parole per te sulla Gazzetta dello Sport Ti abbiamo visto all'attacco nelle tappe che passavano vicino a casa Ora per te ci sarà il Tour de France, correggimi se sbaglio Quindi come gestisce un professionista, nel tuo caso un grande gregario Che però si fa un mazzo così praticamente per tutta la corsa Questa fase di pseudo recupero Perché sì, si può staccare ma fino a un certo punto Sì, logicamente io vengo da una stagione molto impegnativa Perché comunque ho iniziato in Australia a gennaio Passando per la Tireno Adriatico e tutte le classiche del nord Quindi poi ho fatto 15 giorni in montagna prima del giro Al giro mi sono sentito bene Ho avuto diciamo un po' il mio primo picco di condizione Adesso è fondamentale recuperare Comunque dopo tre settimane il giro ti dà veramente tanto ritmo corsa E non è che c'è bisogno di fare chissà che di lavori specifici Oppure di distanze in bicicletta Quindi è fondamentale saper recuperare bene Questa settimana andrò a spasso qui sui Colli Ugani Che insomma è una palestra veramente perfetta per noi ciclisti E poi riprenderò pian piano Avvicinandomi verso il tour Farò i campionati italiani E poi andrò al Tour de France Tour de France che tra l'altro ti ha sempre portato bene Perché sei uno degli italiani Che ha vestito anche il numero rosso Della premio combattività L'emozione più grande e la delusione più grande di questo Giro d'Italia per Marco Marcato Ma allora delusione più grande Anche insomma se non dobbiamo parlare di chissà che delusione È comunque quella di non essere riusciti a fare una gran classifica con il nostro capitano Perché comunque avevamo Il nostro obiettivo primario era quello di fare Di vincere questo Giro d'Italia Purtroppo sappiamo che il ciclismo non è matematica E quando comunque uno prepara dal 100% Poi non è sempre automatico il fatto che vengano i risultati E se devo dire la mia soddisfazione più grande Comunque quella di aver fatto quinto a Prato Nevoso Che sulla carta non era proprio un arrivo adatto a me Sicuramente ho centrato la fuga buona Poi me la sono giocata C'erano degli scalatori più bravi di me nel gruppetto Però insomma fa sempre piacere arrivare davanti E giocarsi una tappa al Giro d'Italia Intanto arrivano i caffè Grazie dei caffè Salutiamo anche Eric Pacagnella Gianni guarda saluta Eric Pacagnella Ultima domanda Ci seguono in tantissimi ragazzi Tu sei stato un atleta che nella sua carriera ha provato praticamente tutto Compreso il ciclocross perché mi ricordo Che consiglio dai a tutti i ragazzi che ti seguono Che seguono il ciclismo E che vogliono approcciarsi ad un'ipotetica carriera in questo mondo Sicuramente io dico la prima cosa è quella di divertirsi in bicicletta Deve essere veramente un divertimento E poi di provare un po' tutte le specialità Perché comunque sia la pista che il ciclocross Che la mountain bike stessa Sono propedeutiche anche per la strada E sono complementari Tutte le discipline si integrano assieme E fa sì di avere una completezza diciamo Nelle abilità del ciclismo Qui siamo sicoli ugani Sicuramente ripeto una palestra perfetta Ci sono percorsi misti C'è un po' di tutto C'è la pianura C'è la salita C'è lo sterrato Per andare in mountain bike Per fare il ciclocross Quindi niente Siamo in una zona Che a livello ciclistico Può dar tanto E consiglio di Di fare del ciclismo Che fa solo che bene Bene ragazzi Grazie Marco Beviamo il nostro caffè Poi ritorniamo in bicicletta Tu torni a casa Io vado in altri Lidi Alla prossima puntata di Coffee Ride Chissà dove pedalerai Legna Lazzaro la prossima settimana Continuate a seguirci Ciao Ciao